André, buongiorno. Buongiorno. Ma è entrato tutto in quel trolley? Sei sicuro di non aver dimenticato qualcosa? Sì, è entrato tutto, tranquillo. Senti, papà, io non voglio litigare, però al massimo una settimana e torno a Roma. Posso chiederti almeno il perché? Perché devo lavorare, ho mille date per suonare, e sinceramente non ho voglia di andare a mare con mamma e Alessandra, va bene? Vabbè, hanno iniziato a pagarti qualcosa? Sì, hanno iniziato a pagarmi, sì. Ma almeno riesci a studiare lavorando la notte. Riesco a studiare anche lavorando la notte, sì. Vuoi sapere altro? Andrea, sei ancora in tempo per ispirarti in ingegneria, eh? Cioè io non voglio ostacolarti con la musica, ma ammetti che va male. Con una laurea in lettere sarà più difficile aiutarti ad entrare in fabbrica. Papà, questa è la tua vita, non la mia. Io voglio fare musica. Scusi? Papà, no, dai papà, andiamo. Mi da due rose. No, dai. No, dai.